Bisogna saper leggere tra le righe delle dichiarazioni del direttore sportivo Piero Doronzo per cogliere una certezza rilanciata dal presidente della Fidelis Andrea Paolo Montemurro durante la trasmissione Pani Amore Fidelis di lunedì sera. La società si muoverà sul mercato di gennaio, annuncia il numero uno andriese, che conferma di fatto quello che Piero Doronzo aveva presentato in maniera più edulcorata. Dopo la partita di Cosenza tireremo una linea, vedremo dove siamo, di cosa eventualmente, se ha bisogno, la squadra, premettendo che noi siamo non soddisfatti ma ampiamente soddisfatti di tutta la Rosa che finora ha conquistato questa posizione e questi punti in classifica. Poi se possiamo darci una possibilità in più a livello numerico, perché magari può capitare come è successo che un'assenza venga avvertita in maniera particolare, proprio perché a livello di cambi si è in difficoltà, io credo che pur non snaturando quelle che sono le linee programmatiche della società, qualcosa potrebbe anche succedere. Certo, la linea societaria resta netta. La riga si tirerà dopo l'ultima giornata del 2015 a Cosenza per capire cosa servirà ad una squadra in piena linea con i programmi di stagione. 19 punti in 14 giornate sono il giusto ruolino di marcia per conquistare una salvezza tranquilla, merito di una squadra che in teoria non avrebbe bisogno di essere ritoccata, anche se alla prova dei fatti necessita di qualche innesto per non far pesare troppo le assenze, quando ci sono, come è accaduto nel caso di Grandolfo, ed eventualmente bilanciare qualche partenza proprio con il mercato di gennaio. Perché nel calcio tutto è possibile e nella fine di Sandria non mancano elementi che cominciano ad interessare altre società. Insomma, con i movimenti di mercato bisognerà fare i conti che si aggiungeranno a quelli di classifica. Su questo fronte molto diranno le ultime gale di quest'anno solare, in casa contro la Casertana in trasferta a Cosenza e le prime due del nuovo anno in casa contro Catania e Lecce. Più che un poker delicato, un percorso ad ostacoli che non preoccupa il direttore sportivo Piero Doronzo. L'affrontiamo una alla volta con la consapevolezza di essere una squadra che se la può giocare con tutte, poi dipende da tanti episodi.